Che la videosorveglianza sia l'occhio vigile della legge ormai è cosa assodata. Molti sono i reati che hanno trovato una traccia e poi l'individuazione dei colpevoli attraverso immagini e sequenze video. Il monitoraggio del traffico di auto in transito in un territorio è il primo baluardo a difesa dei nostri beni. Sapere chi entra, quando e come permette con l'incrocio dei dati in caso di reati di collocare sulla scena i possibili responsabili. Una strada questa intrapresa anche dal comune di Fossombrone che già da un anno dispone di 5 telecamere in un punto cruciale di transito della città che leggono le targhe delle auto che vi passano sotto. Ora entro poco all'ingresso sud della città verrà posto un altro cancello elettronico. Il nostro obiettivo è quello di implementarlo ulteriormente e stiamo già lavorando insieme al comandante della Polizia Municipale che ha elaborato un programma di videosorveglianza che cercheremo di portare avanti durante il nostro mandato. Quindi il prossimo passo sarà quello di prevedere un ulteriore lettore per le targhe. Quindi siamo convinti che questo sistema possa funzionare o quantomeno sia un deterrente per eventuali malintenzionati. Molteplici le possibilità che questo sistema denominato città sicura riesce a dare come supporto alle forze dell'ordine. Il progetto che abbiamo presentato con il sindaco al prefetto di Pesaro Urbino prevede un allargamento quindi l'implementazione di questo sistema con altri varchi di cui uno sarà posizionato alla strada provinciale mondaviese all'ingresso della città e in futuro contiamo di installarne altri sempre all'ingresso della città a zona San Martino del Piano quindi direzione Fano-Fossombrone e in via Pergamino per i veicoli che diciamo il flusso che arriva dalla superstrada e da Urbino. Territorio quello di Fossombrone già monitorato in diversi punti con nove telecamere attive sparse in punti chiave della città più una mobile per le isole ecologiche. Oltre all'individuazione di mezzi non in regola con assicurazione o revisione città sicura è in rete con le altre città che lo adottano creando una vera ragnatela di dati utili ai tutori della legge.